Minacciava di morte sua madre per farsi dare i soldi per comprare la droga. Nella serata di domenica i carabinieri della stazione di Magenta hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne italiano ragazzo con precedenti penali che compiva ripetutamente atti persecutori nei confronti della madre di 65 anni. I militari nel corso del pomeriggio erano intervenuti presso l'abitazione della donna che aveva chiesto aiuto chiamando il 112 perché voleva segnalare il comportamento violento proprio nei suoi confronti giunti. Sul posto i carabinieri hanno sorpreso il 28enne che in preda a un forte stato di agitazione stava sferrando pugni e calci alla porta d'ingresso di casa proferendo minacce di morte nei confronti di sua madre pretendendo che la donna gli consegnasse del denaro che avrebbe probabilmente utilizzato per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Dei successivi accertamenti è inoltre emerso che l'uomo aveva già avuto in passato analoghi comportamenti violenti nei confronti della madre per i quali la donna aveva già sporto denuncia. Il 28enne quindi è stato subito bloccato condotto in caserma Magenta è successivamente accompagnato presso il carcere di San Vittore per essere messo a disposizione della procura.